Il film si apre con due giovani americani di nome David Kessler e Jack Goodman. Sono in un viaggio di tre mesi attraverso l'Europa, con l'intenzione di visitare diverse città importanti come Parigi, Roma e Berlino. Attualmente stanno facendo l'autostop su un camion per pecore attraverso la campagna selvaggia dell'Inghilterra settentrionale diretti in Italia. Mentre si avvicina il tramonto, l'autista si ferma e lascia i ragazzi su una strada desolata, spiegando che sta andando in una direzione diversa. Prima di partire, avverte i due di stare lontani dalle brughiere e di restare sulla strada. Dopo questo, i ragazzi continuano il loro viaggio a piedi, e presto arrivano di fronte a un pub chiamato The Slaughter Lamb. Notano poi l'insegna del pub, che raffigura una testa di lupo insanguinata e decapitata con la lingua di fuori infilzata su una spada. Quando entrano, l'agente del posto interrompe bruscamente quello che stava facendo e li fissa in silenzio. Tuttavia, quando i due tizi ordinano, l'agente del posto sorprendentemente torna a fare quello che stava facendo prima. Pochi istanti dopo, Jack nota un pentagramma dipinto tra due candele sul muro. Ne parla a David, ed entrambi rimangono curiosi del suo significato. Jack chiede quindi alla gente del posto cosa significhi il simbolo e perché sia dipinto lì. Sorprendentemente, l'intero bar cade di nuovo nel silenzio e li fissa con rabbia. Sembrano essere furiosi per qualche motivo, così cacciano i ragazzi dal pub. Mentre i due si alzano per andare via, la barista sembra preoccupata e dice che non possono lasciarli andare. Nonostante questo, i frequentatori del pub avvertono semplicemente i ragazzi di rimanere sulla strada, evitare le brughiere e fare attenzione alla luna piena. I due lasciano così il pub, ancora scioccati da quello che è appena successo loro. Continuano a camminare, sperando di trovare presto un villaggio dove potersi riposare. Purtroppo, presto inizia a piovere forte, e la nebbia intorno a loro si infittisce. Questo fa sì che i ragazzi si allontanino dalla strada principale e alla fine si perdano. Pochi istanti dopo, sentono degli ululati assordanti in lontananza e si spaventano. Decidono di tornare al pub, ma si rendono conto di essere nel mezzo di una brughiera e non riescono a orientarsi. Il ringio diventa sempre più forte, e i ragazzi si rendono conto che una creatura sconosciuta si sta avvicinando a loro. Iniziano a correre nella direzione opposta, ma presto un lupo mannaro emerge dalla nebbia e inizia ad attaccare Jack. David si precipita in suo aiuto, ma a quel punto Jack è stato brutalmente fatto a pezzi ed è quasi morto. Dopo questo, il lupo mannaro rivolge la sua attenzione a David e lo attacca, ma prima che la creatura possa causare danni seri la gente del posto arriva e gli spara a morte. Mentre perde i sensi, David nota il lupo mannaro morto trasformarsi in un uomo insanguinato e nudo. La scena poi si sposta tre settimane dopo, quando David si risveglia in un ospedale di Londra. Viene accolto da un medico di nome Irsh e da un uomo dell'ambasciata americana. David chiede del suo amico, al quale Irsh rivela che Jack è stato assassinato. Secondo i rapporti ufficiali, sono stati attaccati da un folle evaso. David è sconvolto per la morte del suo amico e inizia a comportarsi in modo isterico, così un'infermiera di nome Alex lo seda. Prima di perdere conoscenza, chiarisce che non è stato un pazzo ad attaccarli, ma un grosso lupo. Quando si sveglia più tardi, riceve la visita di due detective che vogliono raccogliere la sua deposizione. David racconta loro la stessa storia di come sono stati attaccati da un grosso lupo. I detective però non gli credono, perché due testimoni hanno visto un pazzo attaccare i ragazzi. Rivelano che il corpo del folle evaso è stato scoperto, e un rapporto dell'autopsia ha confermato che era lui l'aggressore. Gli investigatori ora sospettano che i ricordi di David siano distorti a causa di un grave trauma psicologico. Nella scena seguente, David inizia ad avere incubi in cui si vede nudo mentre corre nella foresta e fa a pezzi un cervo con i denti. Quando si sveglia, Alex lo esorta a mangiare qualcosa prima di prendere la pillola. David le chiede di lasciarle la pillola e promette di prenderla più tardi. Tuttavia, lei rifiuta, e procede a dargli da mangiare come un bambino. David è toccato da questo gesto, e si sente attratto da lei. Più tardi, quando si addormenta di nuovo, fa un altro strano sogno in cui corre nel bosco. Pochi istanti dopo, si ritrova in un letto d'ospedale con una faccia mostruosa con zanne. Quando David si sveglia, racconta freneticamente a Irsh i suoi sogni vividi, ma il medico presume che sia il risultato del suo trauma psicologico e gli assicura che va tutto bene. David dice che non vuole restare solo, perché è spaventato, quindi il dottore promette di mandare qualcuno a stare con lui. La sera, vediamo David accompagnato da Alex mentre sta leggendo un libro accanto al suo letto. Le dice poi che è molto bella, facendola arrossire. Poco dopo, si addormenta e fa un altro incubo su un gruppo di uomini lupo che indossano uniformi naziste. Questi uomini massacrano la sua famiglia e incendiano la sua casa davanti ai suoi occhi prima di tagliargli la gola. In questo momento, David si sveglia, e informa Alex che ha appena avuto un incubo. Pensando che si senta a disagio va ad aprire le tende, ma all'improvviso viene pugnalata da uno dei demoni nazisti. David impazzisce alla vista, ma si sveglia presto e si rende conto che era solo un altro incubo. La mattina dopo, mentre fa colazione, David riceve la visita del fantasma di Jack, il cui volto è stato completamente dilaniato. David crede che sia solo un altro incubo, ma Jack insiste che è veramente lì. Si scusa per averlo disturbato con la sua presenza, ma spiega che è stato costretto ad andare ad avvertirlo. Racconta a David che sono stati attaccati da un lupo mannaro noto come un licantropo. Siccome David è stato morso, si trasformerà in un lupo mannaro durante la prossima luna piena, che è tra due giorni. Quanto a Jack, è condannato a camminare sulla terra nel limbo, né morto né vivo, finché la linea di sangue del lupo non verrà recisa. Dice che David sarà l'ultimo lupo mannaro, poiché ha ereditato la maledizione del suo aggressore. Jack ora vuole che il suo amico si tolga la vita per porre fine alla maledizione del lupo mannaro e impedire ad altre persone di diventare potenziali vittime. Nonostante questo, David pensa di avere solo allucinazioni, e si rifiuta di credere a ciò che ha detto Jack. Inizia a chiamare Alex, e quando lei arriva Jack scompare. David bacia quindi Alex, e le racconta di come Jack gli aveva appena fatto visita e le aveva detto tutte quelle cose. Tuttavia, lei lo rassicura che probabilmente stava solo sognando di nuovo. Il giorno dopo, David viene dimesso dall'ospedale e Alex lo porta nel suo appartamento. Quando arrivano, lei chiarisce che di solito non porta a casa uomini in questo modo, ma ammette di essere attratta da lui. Li vediamo poi fare la doccia insieme e passare il pomeriggio a fare l'amore. Più tardi quella sera, quando David si alza per andare in bagno, viene sorpreso dal fantasma di Jack nello specchio. Il ragazzo sembra essere ancora più deceduto di ieri. Si dirigono poi in soggiorno per parlare, ma David crede ancora che Jack non esista. Nonostante questo, il suo amico gli ricorda che domani è la luna piena, e lo esorta a uccidersi finché può. Pochi istanti dopo, Alex entra nella stanza, facendo sparire di nuovo Jack. Il giorno dopo, il dottor Irsh si reca allo Slaughtered Lamb per verificare se David sta davvero dicendo la verità. Mentre entra nel pub, l'agente del posto cade di nuovo in silenzio e lo fissa. Irsh cerca di coinvolgerli in una conversazione, chiedendo dell'incidente che ha coinvolto i due ragazzi americani, ma i frequentatori del pub negano di sapere qualcosa e affermano di non aver mai visto i ragazzi. Ciò delude il dottore che procede ad andarsene, ma un ragazzo gli si avvicina mentre esce. Rivela che gli americani sono stati senza dubbio attaccati dai lupi, e che le persone intorno a David sono in pericolo. Cerca di rivelare altro, ma un anziano abitante del villaggio appare e lo rimprovera, facendo scappare il ragazzo. La sera, David è solo nell'appartamento mentre Alex è al lavoro. Cerca di passare il tempo guardando la tv, ma il suo corpo inizia a bruciare, facendolo urlare di dolore. Pochi istanti dopo, gli crescono folti peli su tutto il corpo, artigli affilati emergono dalle sue mani, e zanne sporgono dalla sua bocca. Alla fine, David si trasforma in un lupo mannaro sotto la luce della luna piena. Dopo questo, vaga per le strade di Londra in cerca di vittime. Presto incontra una coppia, che sta andando a un invito a cena a casa di un amico. Hanno in programma di entrare dalla porta sul retro per sorprendere i loro amici, ma sfortunatamente, il lupo mannaro li attacca e li fa a pezzi brutalmente. Più tardi, David arriva a una discarica dove tre senza tetto e un cane sono radunati attorno a un fuoco in un bidone della spazzatura. Il cane inizia improvvisamente ad abbaiare in modo aggressivo e scappa via. Poco dopo, gli uomini sentono qualcosa ringhiare in lontananza, e chiedono se c'è qualcuno. Sfortunatamente, prima che possano capire di cosa si tratta, il lupo mannaro salta su di loro e li finisce brutalmente. Dopodiché, va a una stazione della metropolitana e insegue un uomo giù per una scala mobile prima di ucciderlo. La scena poi si sposta alla mattina successiva, quando David si sveglia nudo in uno zoo in gabbia con dei lupi. È colto di sorpresa dalla sua situazione, e non ha alcun ricordo di cosa sia successo la notte prima. Scavalca quindi la recinzione e scappa dal posto. Per coprirsi, prende un mazzo di palloncini da un bambino e in seguito ruba il cappotto di una donna. Nel frattempo, il dottor Hirsch legge un articolo di giornale sulle brutali morti di sei persone la notte precedente. Poco dopo, David torna all'appartamento di Alex e le racconta di come si è misteriosamente svegliato in uno zoo questa mattina. Alex però non ci pensa molto, supponendo che stia solo avendo di nuovo vividi incubi. Mentre stanno parlando, riceve una telefonata dal dottor Hirsch, che esprime preoccupazione per le condizioni di David e vuole controllare come sta. Lui le chiede di portare David in ospedale, e Alex acconsente. Più tardi, mentre viaggiano in taxi, David si sente insolitamente energico e dice ad Alex che non si sentiva così bene da anni. La loro conversazione viene interrotta dal tassista, che menziona la notizia di sei persone uccise la notte precedente. Dopo aver sentito questo, l'umore di David cambia improvvisamente, e si rende conto che il suo amico aveva ragione. Presuppone di essere il responsabile degli omicidi e scende immediatamente dal taxi. David si avvicina quindi a un agente di polizia lì vicino, confessa di aver ucciso sei persone, e desidera essere arrestato. L'agente però non gli crede, e si rifiuta di arrestarlo senza motivo. Questo delude David, quindi si avvicina ad Alex e la bacia. Dice che la ama molto, ma che deve stare lontano da lei per la sua sicurezza. Alex è confusa da ciò che intende, ma David non si preoccupa di spiegare e scappa semplicemente via. David cerca poi di tagliarsi i polsi con un coltellino tascabile, ma si sente spaventato e non riesce a farlo. Nota poi Jack in lontananza, che ora sembra quasi uno scheletro. David segue il suo amico in un cinema porno, dove incontra i fantasmi delle sei vittime assassinate la notte prima. Cercano tutti di convincerlo a suicidarsi usando metodi rapidi e indolori, come spararsi in bocca o gettarsi sotto un treno. Tuttavia, David non ha idea di come potrebbe portare a termine un compito così arduo. Pochi istanti dopo, riappare la luna piena, e David, che non ha ancora il coraggio di porre fine alla sua vita, si trasforma di nuovo in un lupo mannaro. I fantasmi delle sue vittime scompaiono, e David inizia a massacrare le persone all'interno del cinema. Poco dopo, diversi agenti giungono sulla scena, ma a quel punto il lupo mannaro è già scappato. Inizia quindi a terrorizzare le strade di Londra, attaccando le persone e causando incidenti violenti. Quando un agente cerca di fermarlo, il lupo mannaro gli stacca la testa con un morso. Questo fa sprofondare la città nel caos, mentre le persone iniziano a farsi prendere dal panico e a fuggire per salvarsi la vita. Nel frattempo, Alex sta dormendo, quando viene avvicinata dal dottor Isch, che le racconta del trambusto. Entrambi presumono che David debba essere il responsabile di questo caos, e decidono di dirigersi insieme verso il luogo. Quando arrivano, scoprono che il lupo mannaro David è in qualche modo rimasto intrappolato in un vicolo cieco senza via d'uscita. Diverse auto della polizia hanno barricato la zona, e gli agenti stanno lavorando per tenere gli spettatori a distanza di sicurezza. Nella scena finale, Alex si fa largo tra gli agenti per raggiungere il vicolo dove trova il lupo mannaro. Il lacrime dice a David che i poliziotti lo uccideranno, e lo implora di fermare la sua furia. Confessa anche di amarlo, e per un momento il lupo mannaro sembra comprendere questo sentimento. La guarda con affetto, ma soccombe rapidamente ai suoi istinti animali e le ringhia contro. Vedendo ciò, gli agenti non perdono tempo e gli sparano a morte. Alla fine del film, David torna alla sua forma umana e muore di fronte ad Alex, ma la sua espressione è serena poiché è finalmente libero dalla maledizione. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.